amici dei tornei arend questa è la master league siamo la terza giornata si affrontano real madrid e napoli creators diamo lo sguardo ai ai lights c'è subito del lavoro per il direttore di gara che assegna il calcio di rigore al napoli creators per questo intervento del portiere in tickel dal dischetto si presenta chale boom rincorsa fuori dall'area guarda il portiere poi direttamente sul pallone il suo sguardo e spiazza così l'estremo difensore cipriani rivediamo anche il replay bello questo piattone a spiazzare il portiere avversario quindi 1 a 0 comincia benissimo napoli creators ma attenzione arriva la rete di chianese grandissima giocata di morra sulla sinistra galoppa e fa fuori in velocità all'avversario riesce a calciare l'ultimo tocco poi è proprio di chianese che realizza così il gol del pareggio a gol risponde a un'altra rete perché mirko fusco non sbaglia due passi su assist di oliva facile facile il gol del numero 93 napoli creators nel secondo tempo continua a spingere qui la punizione la buona risposta di cipriani e poi il calcio d'angolo con l'inserimento di irace il real madrid sfiora il gol ma c'è una ottima chiusura difensiva calcio di punizione per i blanco sparata plastica per piccardi tutto molto semplice altra punizione proprio su questo calcio piazzato arriva la rete di bladiera che pareggia i conti e al san germano quindi è 2 a 2 real madrid aggancia nuovamente napoli creators e non molla addirittura nel finale c'è l'opportunità per scrivere la storia ed è così che morra sull'assist del compagno ci mette il piede anticipa il difensore e come vediamo in sacca in rete è 3 a 2 per il real madrid battuta del resto per il napoli creators tre partite tre vittorie per il real madrid che si impone al san germano 3 a 2